Settainz, loadout. Settainz, loadout. Quit. Settainz, loadout. Home, loadout. Home, loadout. Settainz, quit. Settainz, loadout. No! Non si è rinominato di rosso, devo ricominciare. Eh sì, adesso! Scherzavo! Guarda che bello che sono. C'ho le mutandone. Sono con un outfit da appena svegliato, maglia grigia d'anziano, boxer grigi anche quelli, però con elastico nero, che hanno il loro perché, piedi scalzi, giustamente però con gambe portentose. Perché si stelt. Sì. E cappello da pesca. Ma non un cappello, è un cappello da pesca strano, quello lì da pesca militare. Eh beh, certo, se metti che devi pescare di marine, ti bibetizzi. E' quello che vai a pescare con il tritolo. Ah, è partito. Tonne. Che le bombe in il quadro, quelle di Evangelion. Porca vacca. Eh, cosa succede? Eh, si è sfondato tutto. Aspetta, com'è che si faceva l'accetta? Mi è morta la vita. Dove sei? Ah, sono anche relativamente vicini. E devo fare l'introduzione al gioco? Va bene, faccio un'introduzione veloce al gioco. Ecco, questa è una Battle Royale tipo Hunger Games. Non vedo. Praticamente, vedete, lì ci sono tante persone. Quello è il tabellone alla Hunger Games sul soffitto. Ti smetti? Di dire? Hunger Games. Hunger Games. E uno è già morto per suicidio. È stato ucciso dal suicidio. E chi la dura la vince. Questo è... Alla rembaggio, posso dirlo? Sì, va bene. Alla rembaggio. Allora, adesso, con la sola imposizione delle mani, prendo questa... No, aspetta. Che spavento! Ti stavo per aggredire brutalmente. Addirittura. Eh sì. Allora, con la sola imposizione delle mani, prendo questo sasso, osservo quest'altro sasso e li fondo assieme, guarda. Che troia! Super poteri! Ma che stai spaccando delle pietre giganti. E invece ho fatto un coltello. Ti faccio lo zainetto. Come si vede dall'esterno. Bravissimo! Sono un mago. Mi mangio lo zaino per metterlo. Vediamo. No, stai... Hai digitato out di una tastiera volante. La tastiera volante! Grazie mille per questa performance. E queste sono delle telecamere straordinarie. Ahia, quanti scatti. Che fissano i giocatori. E fanno un rumore inquietante che mi spavento ogni volta. Ecco qua, ho trovato una medicina di droga. Vendila che così... Certo che la rendo. Perché io dico no alla droga. Ho trovato un... Bastardo! Ma come corri tutto dritto, con la schiena rotta. Però adesso io salgo qua con un Magic Trikes. Bravissimo! E prendo i Funk. Io invece vado qui e mi apro questo crate gratuito. No! Bastardo! Hai voluto? Guarda qua! Macete! Kills! Oi! Sei stato in aria mezz'ora. Aiaoh! Scusa, scusa! Quattro di vita con una spinta? Eh, sono fortissimo! Ma c'hai le mani di cemento? E c'è uno! Ma come c'è uno? Ammazzalo, ammazzalo! Come vedete il combattimento è un po'... Lo stiamo massacrando! Eh, ma buona santa, poverazzo! Vuoi prendere la sua spia? Tu stai guardando il muro come l'abbiamo ridotto? Ma questo è post-neorealismo. Ah! Lo raccolgo, fanculo, sai mai! Uh, però possiamo aprire adesso questo! Ah, no, in realtà io posso prendere il mio airdrop! Quanto... Che airdrop hai? No, quello del coltello, ho fatto la cagata. Non dov'è, ho sbagliato, sì. Mi sono ricordato adesso come sono sbagliato. Ma qui c'era un martello, non l'hai raccolto? Cretino, c'era un martello, non l'hai raccolto? Guarda che c'ho il tactical messetai! Cosa cazzo è che c'hai? Il tactical messetai! Il macete tattico che ti dice lui cosa fare. Si dice così, il macete in inglese. Io ancora c'ho gli incubi del sangue sul muro di quello lì, eh. L'abbiamo dilaniato, cioè è stato terribile. Mamma mia. Ma tu hai due lance, tu da dietro sei uno staffettaro. Lo staffettaro? Sai chi sei tu? Quello che aiuta nelle... In topografia quello che tiene l'asta per il... Non mi ricordo come si chiama l'attrezzo. Sì, non mi ricordo. Com'è che si chiama l'attrezzo? Per il misuratore di misure distanti. Quello dei topografie, il... Topogeo? No. È un corso su tre piedi, tipo una telecamera che prendeva le misure. Ma secondo te io che cazzo ne so? Non hai fatto geometra? No, ho fatto l'istituto d'arte, però architettura. Oh, il pepper spray! Finalmente, non l'avevo ancora mai preso. Allora, adesso che ho il pepper spray, quando vediamo un nemico, lascia attaccare me che lo blindo e poi... Va bene. Cioè, se no, blindo te alla fine. O corro mentre spruzzo e mi arriva negli occhi e mi blindo io. Ma cos'è questa tua nuova mania del parlare mezzo italiano e mezzo inglese? Cosa... E internet mi ha detto che va bene così. Ah, ok. Ogni tanto si trovano questi bellissimi scheletrini. Guarda lì come sorride. Con le mosche. Li raccogli e ti dà dei soldi. Stavo sentendo dei rumori. Ah, perché sono gli airdrop. Sono ancora lì, quindi volendo. Io vedo del fumo al centro della mappa. Eh, sono gli airdrop. Eh sì, stanno svolazzando anche. Eh, vieni che... Va bene. Se trovi una tannica di benzina, dimmelo che ci facciamo le dinamiti. L'ho colpito! Bravissimo! Ci provo anch'io. Ma dove? Dove? Ma che scatta? Yeah! Bravissimo! Quanto scatti. Ah, ieri, tiglie. Digito. Per aprirla. Ah, vedi che c***o. Ah, no, è buono. È matura, t'ha dato, minchia. Il pepper spray! Anch'io c'ho il pepper spray! Il pepper spray? Finalmente potrò condire la mia insalata. No! Cato, cato, cato! Via, 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 via! Cosa, cosa? Ma sei un credito! No, non sono io, non sono io! Qualcuno ha tirato la freccia! È lì, è lì, guarda, è lì, è lì! Via, via, via! Ma cosa scappiamo? Eh, ho 60 di vita! Oh, cioè, vuole attivare la trappola! Via, 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 via! Merda! È merda! Ah, è la fine. È la fine. Aspetta che devo fare... Voglio fare come si fa effettivamente una benda. Ok. Allora, noi raccogliamo un pezzo di legno, lo fondiamo con un altro pezzo di legno, sempre con la sua imposizione delle mani, e diventa un rotolo di carta igienica linea che noi ci strofiniamo così sul polso e tac! Un sacco di vita. È magia! Porca puttana! Mi ha dato una botta da dietro! E non lo riescono a prendere adesso. Guarda, c'è l'altro con le frecce che rompe i coglioni. Tiè, bastardo infame! Karim! Hai cercato me! Te l'ho detto io che ti ho cercato! Gatto, io sono morto! C'ho sette di vita! Niente, è andata! È andata, è andata! Dove sei? Ho uno di vita! Sto per morire, sto per morire! No, 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 no! Merda! Ok, l'ho ucciso! Bravissimo! Vai via, vai via, vai via! Eh, ma non ho stamina, porca puttana! Ma dove cazzo sei tu? Io sono lontanissimo, gatto! Arca, troia! No, no! E ne sono arrivati altri otto! Eh, t'ho detto scappa, t'ho detto! Non scappi! Eh no, devi farlo subito! Ti guardo! Cosa stai facendo? Eh, mi sto curando piano molto, molto piano! Ma stai movendo le mani? Ma c'hai anche i dentoni da... Va bene! Sì, c'ho i baffi dei dentoni! Per quello costo un euro! No, no, e tanto più di così non posso... Cioè... Mi... Cosa? Io ho sentito... Cosa? Io ho sentito... Non passi indietro di me! Hai sentito male! Per fare l'armatura dovete prendere a catanate un albero... In modo forte! Sì, sì! Spesso e volentieri, tra l'altro! Poi prendi... Fai... Le bende! Sì, bravissimo! Poi fai... La satchel! Usando bende e legno! E legno! La satchel di legno! E poi... Te la sei infilata nel cuore! Come sei che serviva? Il sasso! Il sasso? Eh sì! Cosa rende? No! Ne servono dieci! Io ne ho nove! Ma dai! No! Ma no! Il legno! Non ti serve il legno! Ah già! Il sasso! Eh... Va bene! Quella catana ormai non taglierà più neanche un bicchiere! Ecco qua! Io volevo però farmi la dinamite! Tanto stai già creando degli scudi indistruttibili grazie a zaini e sassi! Oh porca puttana! Sono magico! Ma... Ah! Eeeh! Non metterlo nel video! Non ho dinamite! Volevo farmi la dinamite! Ma che cazzo c'è in sta mania della dinamite? Eh sì! Aspetta! Faccio la dinamite! Ma non puoi! Non c'hai i funk! Eh vedo quanti ne servono! Mi sembra che ne servano sette! Dodici! L'hai detto prima! Ma... Oh puttana! Posso fare gli spontanei avvelinati dai! E che cosa servirebbe di grazia una trappola? Eh li metti per terra e dà il veleno a chi ci calpesta! Ho capito! Ma ora che li metti per terra ti hanno già ammazzato! Eh no ma io adesso vado al centro della mappa dove tutti si raduneranno lì! Non so parlare! Raduneranno lì! Raduneranno! Li metto per terra nell'acqua! Perché tanto le tue trappole non si attivano se ci passi tu no? Bravissimo! E quindi? Guarda che sei già un espertone! Hai visto? Mi stanno sparando! Ma ti stai caccando addosso? Cosa succede? Eh sono steve! È il ballo del qua qua eh? Eh puttana Eva però! Occhio dietro! No me... Occhio dietro! Sto scappando! Sto scappando nelle spine! Nelle spine! Aio! Dai! Ma dai! Zippalo! Bravo bravo! Backstab! Ma non mi ha fatto il backstab però! Eh la prima volta sì! Eh no non l'ha fatto! Dovevo farlo ero dietro! Tu a lui intendi? No 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 io! Io dovevo farlo! Eh sì sì! Eh ma porca troia! Awww! Wow cazzo! Eh ok! Ritorno insomma il menu! Non posso uscire perché non ho il mouse! Eh devi premere ESC! No non posso! Ah non puoi premere ESC? Eh praticamente se giro la telecamera non c'è il mouse ma c'è la... Gira la telecam... Ah ecco qua ok! Ok!